E' slittato tutto a lunedì prossimo in Consiglio Comunale a Giarre. Un nuovo inghippo tecnico non ha di fatto permesso ieri sera il voto sul regolamento per gli oneri di urbanizzazione. Infatti all'emendamento proposto dall'opposizione, che voleva ridurre l'onere per le aree artigianali dal 30 al 15%, si è aggiunto quello di Orazio Scuderi, che per gli immobili turistici e commerciali chiede addirittura il 50% di concessione. Il dirigente finanziario Letterio Lipari, prima di emettere un parere sulla proposta di Scuderi, ha chiesto qualche giorno di tempo per effettuare una prima ricognizione. Per questo è stato necessario lo slittamento a lunedì, mentre sono ancora tanti i purdi all'ordine del giorno da espletare, in attesa che inizi la sessione di bilancio che si annuncia caldissima.